A tutti una buona giornata, che perdonatemi in ritardo nella pubblicazione di questo video, ci mettiamo subito in ascolto del Vangelo di Matteo che la liturgia ci regala in questo venerdì 16 di agosto. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per mettere alla prova e gli chiesero, è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose, non avete letto che il creatore da principio li fece maschio e femmina e disse per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne? Così non sono più due ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono perché allora Mosè è ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro, per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così ma io vi dico chiunque ripudia la propria moglie se non in caso di unione illegittima e ne sposa un'altra commette adulterio. Gli dissero i suoi discepoli se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna non conviene sposarsi. Egli rispose loro, non tutti capiscono questa parola ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire capisca. E allora è un testo molto impegnativo, è un testo anche fonte di molte dispute e di molte riflessioni perché se volete è il testo che è un po' alla base della scelta della chiesa cattolica in obbedienza al Signore di non rendere lecite le seconde nozze. Quindi è un testo davvero abbastanza impegnativo. Proviamo a dire un paio di cose. Prima di tutto vorrei fare un'osservazione molto generale ma mi sembra molto molto interessante. Gesù rivendica un'autorevolezza sulla Bibbia senza precedenti. Cioè Gesù ha l'ambizione di dire ciò che era all'origine. I farisei vanno e gli dicono ma si può no ripudiare? Gesù dice no non va bene e loro gli dicono scusa ma come vai Mosè nella scrittura dice che si può? E Gesù dice ma in principio non era così. Mosè l'ha fatto per la durezza del vostro cuore. Guardate che Gesù rivendica un'autorevolezza incredibile no? Gesù rivendica l'autorevolezza di dire cosa sta all'origine di ciò che Dio pensa. Gesù rivendica l'autorevolezza di conoscere il disegno originario di Dio sul mondo e secondo Gesù bisogna tornare alla Genesi quando si dice che l'uomo e la donna lasceranno il padre e la madre e diventeranno una carne sola. Dunque l'uomo non divida quello che Dio non ha congiunto. Gesù dice è questo il piano originario di Dio. Nel piano originario di Dio c'è un amore indissolubile. L'amore non è mai in prova, l'amore non è mai part time, l'amore può essere anche ferito secondo Gesù, l'amore può conoscere anche dei momenti di grossa fatica, ma l'amore che passa anche attraverso la sofferenza è un amore che Dio farà risplendere, che Dio mostrerà in tutta la sua gloria. L'amore che un uomo e una donna sono chiamati ad avere è della stessa qualità con cui Dio ha creato l'universo, per questo assolutamente indissolubile, per questo non si può ritrattare, per questo è un amore che è eterno, per questo è un amore che è capace di andare anche al di là degli ostacoli. Quando gli dicono sì, però poi Mosè nella scrittura dice che si può ripodiare, Gesù dice sì ma l'origine non è così, non è questo il disegno originario di Dio e sulla croce Gesù porterà a compimento questo disegno originario di Dio, di un amore che può anche passare per la ferita, ma è sempre destinato a risorgere. Attenzione, non mi permetto di essere giudicante, poi le storie singole, le storie individuali sono molto molto complesse e quando uno arriva anche a prendere la decisione di interrompere una convivenza e di interrompere una storia matrimoniale che va avanti da anni, tante volte c'è una sofferenza di cui davvero non mi permetto di giudicare, però sto alla parola del Vangelo che il Signore di oggi dice, è una parola molto forte, all'origine di Dio c'è un amore che non ritratta mai e Dio è capace di far risplendere la gloria della risurrezione anche se il passaggio è per la croce. Questa è l'autorevolezza che Gesù rivendica, dimostrare cosa sta all'origine del progetto di Dio. Poi io, questa è una mia convinzione personale, penso che Dio sia capace di far risplendere il suo amore anche quando noi uomini facciamo fatica a tenere il passo, facciamo fatica a stargli dietro, facciamo fatica a limitarlo, è Dui che lo fa risplendere, però Gesù dice una parola di verità, guardate che l'amore con cui Dio vi ha fatti e l'amore che fa girare il mondo è un amore indissolubile, eterno, indivisibile e questa è una buona notizia, ci fa molto sperare, all'origine del mondo il Signore vede l'amore, non vede la convenienza, non vede un Dio che è vendicativo, un Dio che vuole ritrattare, ma un Dio che non smette mai di amare lo chiede anche a noi ed è capace di far quadrare anche i conti nella nostra vita quando noi facciamo faticano a tenere il suo passo. Poi c'è la seconda parte del Vangelo di oggi che anche questa non deve essere fraintesa, gli apostoli dicono beh ma se questa è la condizione dell'uomo nei confronti della donna non conviene sposarsi. Cosa significa questo testo? È solo un ragionamento di convenienza? Vabbè se l'uomo può ripudiare la donna quando vuole? Molto bene, ma se non lo può fare mamma mia è troppo difficile, meglio non sposarsi. Allora sono tante le letture che si possono dare di questo testo, è uno dei passaggi controversi del Vangelo. Mi rifaccio a un attore che dice una cosa molto interessante, in questo caso gli apostoli stanno scoprendo una cosa, che l'amore non è questione di convenienza, che l'amore non è questione di quanto ci guadagna e di quanto ci perdi, che l'amore è questione di dono, di donazione e rispetto a uno che si sposa, uno che non si sposa, uno che sceglie di non sposarsi per Dio. Non c'è nessun vantaggio da questo punto di vista, non è che il matrimonio, per secoli abbiamo detto che il matrimonio è la via normale e poi ci sono le scelte di speciale consacrazione. Forse Signore ci sta dicendo un'altra cosa, non conviene sposarsi, nel senso che è rotta la logica della convenienza. Noi non possiamo scegliere nella nostra vita per convenienze, noi possiamo scegliere per la questione dell'amore e allora poi scegli tu come amare per la via matrimoniale, per la via della speciale consacrazione. Questa sarà la tua storia e la tua preghiera a dirtelo, ma non è la convenienza il problema centrale della vita. Noi non possiamo volerci bene per convenienza, noi non possiamo scegliere per convenienza ma per questione d'amore e su questo non c'è nessun vantaggio tra chi si sposa o chi non si sposa, a patto che sia fatto per la questione dell'amore e non per la questione della convenienza. Grazie per aver seguito questo momento di ascolto del Vangelo insieme, auguro a tutti un buon venerdì.